Stasera facciamo un video dedicato a tutti gli amici dell'automobilista ma soprattutto vogliamo salutare al nostro grande amico, Michi Piazzoni Michi, guarda che abbiamo fatto stasera qui a Soccarda per te un bel risotto con forcini e tartufa Ciao Michi Piazzoni, sei il numero uno perché tutto il resto è noia Ciao a tutti